questa persona, cerchiamo di capire cosa vuole da te questa persona. Salutiamo anche Crezzi, salutiamo anche Crezzi Robby. Allora, allora facciamo la scelta, prima scelta è il Buddha, la prima scelta è il Buddha, che cosa vuole da te questa persona. Seconda scelta abbiamo la piramide e terza scelta abbiamo la stele, terza scelta abbiamo la stele, quindi abbiamo Buddha, piramide o stele, che cosa vuole da te questa persona. Quindi partiamo con il Buddha, partiamo con il Buddha e vediamo un po' che cosa vuole da te questa persona. Quindi partiamo con la prima scelta che è quella del Buddha. La trasformazione della nespola, cosa deve trasformarsi la nespola? In un'albicocca? Si deve trasformare la nespola in un'albicocca? Non sappiamo in cosa si deve trasformare la nespola, ma partiamo con gli arcani maggiori dei tarocchi. Nel frattempo mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e vi ricordo che sul canale potete comunque abbonarvi e quindi vi suggerisco l'abbonamento, l'abbonamento base o l'abbonamento diciamo o l'altro tipo di abbonamento che abbiamo su questo canale. Mescoliamo le carte e cerchiamo un attimino di capire. La trasformazione. Ah, quando ti sei trasformato facciamo un'intervista nespola. Salutiamo anche Giovanna. Giovanna. Quando sei trasformata facciamo un'intervista alla nespola. La nespola trasformata troverai solo i catranisti. Beh no, dipende, non è che deve diventare un troione da corsa. Può essere anche una trasformazione diciamo di classe ma più femminile, non un troione da corsa. Ovviamente i troioni da corsa non è che attirano poi più di tanto. Cioè attirano nell'immediato magari ma semplicemente per, come dire, per avere una semplice eiaculazio diciamo così. Una semplice eiaculazio. Allora, con un semitroione da corsa, la nostra nespola. Bene, vediamo il semitroione da corsa come può andare. E allora partiamo, partiamo e mescoliamo le carte, cerchiamo di capire, cerchiamo di capire un attimino come, come possono andare. Cerchiamo di capire un attimino come possono andare, come possono andare. Quindi semitroione da corsa per la nostra nespola, semitroione da corsa. Allora, tagliamo e scegliamo le prime tre carte, scegliamo le prime tre carte. E allora abbiamo, beh, insomma, è una persona che ha un, un gran, abbiamo la papessa, la ruota della fortuna e l'imperatore. L'imperatore tra l'altro è il maschio alfa. Tenete presente che l'imperatore è il maschio alfa e l'imperatore, diciamo, rappresenta sicuramente una persona. L'imperatore rappresenta sicuramente una persona che ti può dare, l'imperatore rappresenta sicuramente una persona che ti può dare molto da questo punto di vista. Quindi una persona sicuramente molto interessata a te, una persona che ha voglia, diciamo, di portare avanti la situazione giusta, una persona, diciamo, sicuramente una persona di valore, sicuramente una persona di valore che ha voglia, diciamo, di costruire qualcosa di soldo con te. Non è sicuramente un catramista, quindi non è sicuramente un catramista. Per curiosità, che magari non vorrei aver sbagliato, sto facendo la live sul canale esoterismo, giusto? Carica rampane, sta live la sto facendo sul canale esoterismo e spiritualità, non vorrei aver sbagliato il canale. Ditemi se la sto facendo sul canale esoterismo, vecchie befane. Allora, rapidamente scrivete. Quindi abbiamo una chance. Ah, canale Massimo Terramasco. Ah, ho sbagliato il canale. Ecco, vedi, mi sembrava. Ho sbagliato il canale. Affanculo. Vabbè, non importa, dai. Ho sbagliato il canale. Vabbè. No, volevo farlo sull'altro canale, l'ho fatto su Massimo Terramasco. Eh, no, mi sono sbagliato di canale. Va bene, non importa. Comunque sia. Quindi, infatti, vabbè. Comunque, abbiamo una persona che vuole, che abbiamo, una persona che ha un interesse molto forte nei tuoi confronti e non è un catramista. Vediamo un po' di approfondire chi è questa persona con i tarocchi utilizzando i tarocchi, utilizzando i tarocchi, utilizzando i tarocchi zen. Cioè, utilizzando i tarocchi egizi. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi egizi. Cosa ci raccontano i tarocchi egizi. Salutiamo la nostra Betty Kotic. Ho sbagliato canale. Betty, ho sbagliato canale. L'ho infilato nel canale sbagliato. Come mai? Volevo farlo sul canale esoterismo e invece ho sbagliato canale. Ma non è possibile. A te capita mai, Betty, che sbagliano il canale? Allora, allora, volevamo sapere da Betty, tra l'altro se andate in Piazza Manin fatevi fare il ritratto dal nostro Betty Kotic. Eh sì, volevo farlo sul canale esoterismo e invece sono rimasto logato sul canale, sono rimasto logato sul canale, su questo canale e niente, così è. Allora, quindi, quindi, allora, vediamo un po'. Quindi questo è quello che ci dicono. Vediamo un po' cosa ci dicono i tarocchi di, i tarocchi egizi. Allora, il mondo, beh, è una persona importante che ti darà qualcosa di interessante, ti darà qualcosa di interessante. Abbiamo anche una persona più giovane di te, sarà una persona più giovane di te e sarà una persona trasgressiva. Quindi queste sono le caratteristiche. È una persona che vuole comunque avere una relazione con te, vuole avere una relazione con te, ma è anche una persona molto trasgressiva, più giovane di te, che vista la vostra età non è che ci vuole molto a trovare uno più giovane di voi. Comunque sarà una persona più giovane di voi e trasgressiva, una persona che vi farà vivere delle trasgressioni, diciamo, molto, 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 molto forti e quindi questo è un punto importante. Poi vediamo con le sibille di Lenormand quali sono le caratteristiche delle sibilline di Lenormand. Quali sono le caratteristiche delle sibilline di Lenormand? Cosa ci raccontano le sibille di Lenormand? Chi è questa persona? Cosa vuole da te? Cosa vuole da te questa persona? Vuole solo la patonza o vuole qualche cosa di più? Beh, è una persona molto scaltra, la volpe, molto furba, però è pura d'animo fondamentalmente e ha delle sue radici. Quindi direi che è una stesa interessante questa, una persona che vuole comunque costruire qualcosa di importante con te, vuole costruire una situazione importante. Eh, lo so, cara Giovanna, ho sbagliato canale. A te capita che sbagliano canale ogni tanto? Ti capita a te che sbagliano canale ogni tanto, Giovanna? Magari quando sei lì nella nella fregola, diciamo, ti capita che sbagliano canale o no? Allora, mescoliamo le carte, mescoliamo le carte e vediamo un po', vediamo un po'. Allora, scegliamo le prime tre carte. Giovanna, a te capita mai che sbagliano canale? Allora, bene, ci sarà abbondanza, ci sarà abbondanza, dovrai, diciamo, avere una tua guida e avrai comunque successo, avrai comunque successo. Ci sarà una situazione, diciamo, positiva di estremo successo. Quindi questo è un'ottima stesa, secondo me, per quanto riguarda il Buddha. Una persona che ti darà trasgressione, ti darà anche altro. E poi, e poi abbiamo, e poi abbiamo il, diciamo, la piramide. Vediamo la piramide. Vediamo cosa ci racconta la piramide. Quindi partiamo, partiamo la piramide, partiamo della piramide. E vediamo un po', vediamo un po'. Oggi ho sbagliato canale, cavolo, volevo farlo su esoterismo, non ho più fatto il log diverso e l'ho fatto, vabbè. Qua la vecchiaia, la vecchiaia che ormai sto diventando vecchio, ragazzi. Allora, tagliamo le carte e scegliamo le prime tre carte. Oh la la la, abbiamo l'innamorato, l'innamorato il matto e l'imperatrice. Quindi ci sono anche qua enormi chance, enormi possibilità. L'imperatrice, l'imperatrice è una persona molto estroversa questa, una persona che ti cerca, ma improvvisamente, poi farà la scelta, sceglierà te, perché tu rappresenti, è una persona un po' libertina, un po' puttaniere o libertina e zoccola, diciamo, e avrà, però alla fine ti sceglierà, ti sceglierà, tra le tante situazioni verrai, sarai la prescelta o il prescelto. Questa è quello che ci dice. E diventerà stabile, insomma, è una persona che alla fine sceglierà te, perché gli piacerai, sarai tu la donna che lo intrigherà, sarai tu la donna che vorrà avere nella sua vita. Questo è molto interessante. Vediamo un attimino cosa ci dicono le... vediamo un po' che cosa ci dicono, vediamo un po' che cosa ci dicono le carte egizie, i tarocchi egizi. Cosa ci raccontano i tarocchi egizi? Allora, che cosa vuole davvero da te questa persona? Cosa vuole davvero da te questa persona? Oh, vuole... beh, è una persona che vuole... eh, se è una donna, se tu sei maschio una donna, se è una giovane bruna, una ragazza bruna, mora, potrebbe essere la persona giusta. Diciamo che è una persona molto annoiata, quindi devi dargli vitalità, perché va alla ricerca di... e poi magari potrebbe anche cercare un trasferimento, un cambiamento di città. Insomma, è una persona che da te vuole fantasia, vuole, diciamo... è disposta a impegnarsi, se è questa persona. Però devi imparare a essere una persona più fantasiosa, una persona che dà energia alla calbrisella, è annoiata, è annoiata, è una persona che va alla ricerca di situazioni emotive. E tu potresti anche essere la persona giusta, eh. Comunque è una persona che ha una sua fedeltà, è fedele. Diciamo, c'è qualche nuvola, insomma, non sarà una relazione completamente lineare, ma poi è anche una persona di buon animo, fondamentalmente, un gentiluomo. Vediamo anche qua un suggerimento da parte dei tarocchi Zen Zen. Vediamo anche qua un suggerimento da parte dei tarocchi Zen Zen di Osho. Che cosa ci raccontano i tarocchi Zen 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 di Osho? Allora, vediamo un po'. Abbiamo, abbiamo... qua oggi piove, 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 piove. Abbiamo... eh... un successo, un successo. Lasciati andare, ci sarà una rinascita. Trasformati come la nostra... come la nostra nespola. Devi trasformarti e viverti anche questa relazione, come se fosse anche un po' un'amicizia. E passiamo alla terza stesa, che è la stesa della stele. Passiamo alla terza stesa, che è la stesa della stele. Vediamo che cosa ci racconta la stesa della stele. La terza stesa, cosa vuole veramente da te? Questa persona piove sulle nuvole sparse, piove sulle tamerigi salmastre d'arse, piove sui mirti divini, piove sui pini. E la favola bella, che ieri ti luse, che oggi mi illude, o Ermione. Piove sulle nuvole sparse, piove sulle tamerigi salmastre d'arse. Allora, beh qua diciamo devi cambiare situazioni Ci sarà un cambiamento importante nella tua vita Abbiamo la torre, la morte, un cambiamento importante nella tua vita Un grande cambiamento e una trasformazione Quindi usciranno via le vecchie situazioni e entreranno le vecchie cose E come la vostra cosa è tutta secca, anche voi siete tutte secche Però su di voi piove o non piove, siete secche anche voi Perché col tempo le cose si seccano Anche al nostro crezio, col tempo tutto si rinsecchisce Allora, vediamo un po' Qualche info, diciamo, qualche info in più Ah no, la nostra Betty non è secca Meno male che la mia non è secca Ah, meno male, meno male che non siete secche Meno male, al parcheggio del cimitero Bene, bene, è un grissino Bene, vediamo, siete secche o non siete secche? La nostra Betty Cotici dice di no Anche Giovanna, ah, Giovanna non dice Laura dice che non è secca Meno male, meno male E Isaura è secca o non è secca? Come sei Isaura? Secca o non secca? Chiediamo a Isaura Borghi Sei secco o non sei secca? Allora, vediamo un po' E non è il peso, non è il peso Che cosa ci dice Isaura? Non sappiamo Non è proprio il caso mio Ah, Betty Cotici che proprio no Betty Cotici invece è una che proprio Agli effluvi, agli effluvi La nostra Betty Tra l'altro se andate lì a fare qualcosa Diciamo Se andate, dicevo, lì dalla nostra Se andate a Venezia E vi suggerisco di andarci Se andate a Venezia E vi suggerisco di andare a Venezia Potrete incontrare la nostra Betty Cotici Potrete incontrare la nostra Betty Cotici a Venezia E farvi un ritratto Bene Ci sarà una rinascita Ci sarà una rinascita Una grande rinascita Grandi opportunità per voi Grandi opportunità Di nuovo la noia Però cazzo, non dovete far annoiare E dovete anche essere persone più attive Dal punto di vista cerebrale Siete un po' spenti Siete un po' noiosi E' questo che vi frega Siete un po' spenti Siete un po' noiosi Non dovete portare Non dovete essere noiosi Vediamo un po' cosa ci dicono Le sibili Perché la noia vi rovina La noia vi rovina Mentre invece la nostra gina de Katsan Sappiamo La nostra gina è secca O non è secca Che cosa ci dirà la nostra gina de Katsan Cerchiamo di capire Se è secca o non è secca La nostra gina de Katsan Allora Mescoliamo Mescoliamo E vediamo Vediamo Che cosa ci dicono le carte Tanto Aspettiamo di capire Se la nostra gina de Katsan È secca o no Allora Questa è un'ottima È un'ottima chance Perché è una persona pura È una persona splendente come il sole Splendente come il sole Ed è una persona Ed è una persona Che ha grandi chance Grandi opportunità Ma devi prendere una decisione Salutiamo anche Ika Devi prendere una decisione Nel frattempo vi ricordo Di iscrivervi al canale Attivare la campanella Così riceverete la notifica I nuovi video Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Così potrete ricevere La notifica dei nuovi video E adesso Mescoliamo le carte Mescoliamo le carte E vediamo Vediamo Quindi facciamo Attenzione Mettete un like Vecchie carampane Mettete un like E vediamo un po' La nostra Gina non è secca Quindi Di secchi Chi che abbiamo A parte Crezzirobi Non c'è nessun'altra Nessun'altra secca Insomma Solo Crezzirobi È secco Allora Mescoliamo le carte La nespola Non sappiamo Come sarà la nespola Le nespole Un po' Sono raggrinzite E qua sta venendo giù Di l'uva universale Le nespole Sono raggrinzite Normalmente Allora Viviti Questo sogno D'amore Finalmente Viviti Questo sogno D'amore Viviti Questo sogno D'amore Non reprimerti E diciamo Rallenta Rallenta Non pensare Che sia un qualcosa Che va Troppo velocemente Ecco Queste sono le cose Le tre stese Direi che sono Tutte e tre Diverse Ma abbastanza Posi